Ciao a tutti, in questo video vi raccontiamo le attività di Rousseau del mese di agosto terminato da poco. I numeri in crescita del portale eventi sono la prova di come Rousseau moltiplica le connessioni tra cittadini, attivisti e portavoce, garantendo partecipazione e coinvolgimento dei propri iscritti e non. Tutto ciò si è ottenuto grazie ad un nuovo sistema di videoconferenze che ha permesso a ciascun facilitatore regionale del team del futuro di organizzare e realizzare webinar, meeting e attività di formazione aperti a tutti, senza limiti di tempo e con platee estese. E stiamo già lavorando per il nuovo calendario del mese di settembre che verrà pubblicato a breve. Il 13 e il 14 agosto gli iscritti certificati abilitati al voto hanno potuto esprimersi su due quesiti proposti dal capo politico Vito Crini, uno sulla modifica del mandato zero, l'altro sulle alleanze delle liste del Movimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali. Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48.975 eventi diritto, i quali hanno espresso 97.685 preferenze. Grande è dunque stata la partecipazione. Durante questo mese sono continuate senza sosta le certificazioni delle liste per le prossime elezioni amministrative, così come il supporto per i candidati sindaco o presidenti di municipio. I nomi delle liste pubblicate fino ad oggi le potete trovare sul sito ufficiale www.movimento5stelle.it. Il 20 e il 21 settembre ci attende un importante appuntamento. Andremo a votare per confermare la nostra riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari dal 945 a 600. Il Movimento 5 Stelle vota sì per rafforzare il Parlamento e per renderlo più efficiente. Vi ricordiamo che è possibile prenotarsi come rappresentanti di lista del Movimento 5 Stelle per il referendum sul portale eventi di Rousseau cliccando su campagne elettorali. Anche l'attività di informazione non si è mai fermata grazie al blog delle stelle attraverso il quale Rousseau vi aggiorna quotidianamente 365 giorni all'anno sulle principali novità del Movimento 5 Stelle. Ci vediamo su Rousseau. Ciao! Ciao!